Non ha mancato neanche quest'anno l'appuntamento con l'amata Valmalenco, Monsignor Luciano Capelli, originario di Colonia di Tirano, vescovo delle isole Solomon nel Pacifico e noto anche come il vescovo volante. Non perché abbia le ali, certo, ma perché metaforicamente se le mette ogni volta che deve viaggiare per l'arcipelago a bordo del velivolo di recente acquisizione e che ha imparato a pilotare dopo il corso effettuato presso la base di Caiolo. In Valmalenco, in vero, però, pochi giorni fa è salito in auto, insieme ai volontari dell'associazione Amis, che sta per l'associazione Missioni Isole Solomon, presieduta da Piera Perizzatti, noto medico sondriese che molto si è spesa per la realtà guidata da Monsignor Capelli e che, ospite della comunità pastorale della Valmalenco, ha rilanciato circa il bisogno che l'associazione ha di medici e infermieri disposti a lavorare sul campo, perché molte sono le iniziative di solidarietà condotte dagli Amis nel Pacifico e molte quelle che dovranno ancora essere portate a termine. Quest'anno facciamo il progetto dell'educazione di base, quindi una scuola elementare in un posto dei più bisognosi della seconda città del Solomon, Ghiso, e poi facciamo la sala operatoria nell'ospedale che abbiamo allistito e speriamo di avere qualche dottore che viene a darci una mano anche a insegnanti di scuole elementari che però siano in grado di parlare inglese. E l'affetto e la vicinanza dei Malenchi certo non mancano e mai mancherà, contraccambiata dall'affetto che Monsignor Capelli nutre verso questa terra, essendo stato cresciuto spiritualmente dal compianto Don Siro Cabello, di chiesa in Valmalenco, parroco di Colonia di Tirano, quando l'attuale vescovo era bambino. La serata di solidarietà, partita con la messa ufficiata da Don Renato Corona, ha visto anche la partecipazione di Don Mariano Marnielli e Don Andrea del Giorgio, parroci della Valmalenco, e di Don Ezio Viganò, parroco di Castione. Presente anche il vicequestore di Sondrio, Agostino Gallo. È bello vedere come tante persone, una comunità, trovandosi insieme, possano contribuire anche a far cose importanti dall'altra parte del mondo. Passiamo più di 130 partecipanti e vorremmo ringraziare tutti quelli che si sono dati da fare e a darci una mano per organizzare questa serata, che oltre che alla paela e ai pizzocchi preparati dagli amici, c'è anche una bella lotteria per raccogliere sempre fondi per la missione di Don Luciano.